Noi avevamo già visto un video di Dario Moccia che parlava di One Piece, mi pare, un paio di settimane fa e parlava della fine di Eged, ora invece parla di Elbaf, quindi sono curioso di sentire l'opinione di Dario dopo che è iniziata questa nuova saga, anche perché non ho visto questo video, ma la butto lì potrebbe piacergli molto per come è iniziata questa nuova saga, vediamo un po'. Io do un'ultima possibilità a One Piece con il prossimo capitolo e poi deciderò se leggerlo in volume o meno e quindi ascoltare. Ecco, però già questa è un'ottima cosa, perché Dario sicuramente leggendolo a volumi andrebbe a godere molto molto di più della storia di One Piece, secondo me. L'Italia. Basta. Sono stanco. Perché il primo capitolo di Elbaf mi ha fatto incazzare con un mostro e quindi... Ecco, pensavo invece gli fosse piaciuto, però magari sta parlando o del 1126 o 127, perché a me dal 128 in poi dovrebbe essergli piaciuto, a meno che non si stia riferendo a quegli errori di disegno di Oda dove praticamente comparivano e scomparivano pezzi dell'equipaggiamento dei Mugiwara. Basta. Io sono a posto così. È già tanto che accumulo. Basta. Arrabbiatissimo con Oda. È tornata la tua adorata avventura. Quella ti sembra avventura? Eh, allora, intanto bisogna capire di che capitolo parlo, perché secondo me il 1128 va... Davvero, io quando ho letto il 1128 ho pensato subito a Dario, perché mi sembra veramente il suo desiderio, la sua richiesta, che pensavo non potesse essere esaudita. Però vediamo, dai, vediamo cosa dice. Ok, io l'ho letto, finalmente, sono tornati i vecchi Mugiwara tutti insieme. Per me sembra tutto a caso. È tutto completamente... Boh, è stranissimo se pensi alle saghe precedenti. Boh, non ho capito. Non ho proprio capito. Ah, beh, nessuno ha ancora capito. Cioè, non lo sappiamo, quindi... Perché? Io capisco che probabilmente l'ha scritta ai tempi, forse all'origine di One Piece. Ma è ormai cambiato One Piece? Né che poi mantiene quella roba lì, è strano. No, ma ragazzi, guardate che vi state sbagliando. Quello che mi ha fatto incazzare non è quello che mi state dicendo. Parte va bello i soliti... Ecco, Yggdrasil, oddio, sta prendendo fuoco. Cosa, Yggdrasil? Che vuol dire vignetta così piccina? Casini, eh? Ma quello che mi ha fatto incazzare sono i personaggi. La saga dei giganti, i maestri di Usopp, mamma mia. I valorosi guerrieri di Airbuff. Finalmente Usopp. Usopp che ha visto a Onigashima demoni giganteschi, animali robot, incendi incredibili, imperatori, eh? Si fa maggiare da un gatto gigante. Eh, però, allora, qua purtroppo cadiamo all'interno di un discorso che abbiamo già fatto l'ultima volta che parlavamo di One Piece, proprio sulla lettura di Dario. Usopp ha necessità di migliorare. Cioè, proprio il fatto che Nami invece abbia Zeus di Big Mom aiuta tanto nella crescita del personaggio, tant'è che è proprio Nami che poi alla fine riesce ad aiutare Usopp. Usopp oggi credo che sia veramente l'ultima ruota del carro della ciurma, in assoluto. Nonostante aver sbloccato l'Aki, ma Usopp è il più scarso in assoluto di tutta la ciurma. Non ha nessun modo di farsi valere, tant'è che Rufy, nell'ultimo capitolo, ma a questo punto mi viene da dire che Dario abbia letto, almeno questo pezzo di Levi Dario fosse limitato al 1126 o 127, nell'ultimo, nel 28, c'è proprio Rufy che va da Usopp e gli dice ma come, ma un gatto, avresti dovuto batterlo, sono anche stupito da te. Lo va a riprendere proprio su questa cosa qua. È lo stesso Rufy, proprio come sta facendo Dario. Aiuto, aiuto, aiutatemi. Su questo però sono d'accordo. Nel senso, ormai non manca tanto alla fine di One Piece. Il sogno di Usopp è quello di diventare un valoroso guerrero dei mari. Siamo molto distanti da questo. Usopp mi sembra davvero il personaggio più lontano da realizzare il suo sogno. No, mio Dio, che agita il bastone e arrivano i soliti tre a salvare la situazione ricalcando la tavola di Alabasta. Ragazzi, ma sono le solite gag. Ma basta, Joe, ma basta. Basta. Ma che gag che siamo alla fine. Ma che gag che c'è una guerra in atto, il mare si arsa, il mondo in subbuio. E Usopp è troppo indietro, sono d'accordo. È per quello che dico per me, Namik e Azeus è una cosa positiva su Usopp, veramente siamo al disastro. Rivoluzioni una dopo l'altra e le gag. E il palazzo di Lego, il drasir che piglia fogo, i gattoni giganti. Ragazzi, basta. Sì, questo in realtà, ok, sono abbastanza convinto che Dario non abbia letto l'ultimo capitolo. Si è capito perché c'è un gatto, non è un gatto gigante. Sì, lo è in realtà, però è più un gioco dei giganti. Ma che cazzo fa ridere, raga? Allora, scusa, mi vuoi fare le gag? Ok. E là perché mi hai fatto vedere l'allenamento di Usopp? Allora perché mi hai fatto vedere i Pop Green? Qualcuno se li ricorda, i Pop Green? Li ha usati, credo, solo sull'isolevole dei pesci. Io non me li scordo, amica. Dove sono l'Impact Wolf, le alghe che uscivano, tutte le piante? Dove sono? Sì, cioè Usopp paradossalmente era molto meglio quando usava i Dial da Skypie e poi, che aveva utilizzato anche nella lotta con Luffy a Water 7. Poi c'è stato l'allenamento. I Pop, che sono una merda, e poi li ha lasciati veramente le sue uomini, i pesci. Usopp è, credo, davvero il personaggio peggiore, perché a Dressrosa che gli dai anche l'ambizione, la percezione, ti dici, oh, finalmente Usopp in sé. No. Passi indietro la gigante su Usopp. Gli accenti atmosferici di Nami dove so? A parte ogni tanto qualche cazzatina o sì? Ma secondo voi è possibile che io mi devo a Collan nel 2024, dopo tutto quello che mi hai raccontato su One Piece, un capitolo per presentare l'outfit dei personaggi? Ma che cazzo è Pop Music? No, raga. E sono davvero convinto che questo capitolo sia stato fatto soltanto perché Nami aveva dei vestiti molto, molto... Avete capito, dai. Asperto e poi Dragon Ball. Che in realtà, questo è una tematica, perché ovviamente i vestiti sono stati fatti dai giganti che utilizzano i personaggi come se fossero delle vere e proprie bamboline. L'abbiamo visto in Dragon Ball con Pan che diventava una bambola vestita da Rodrigo Taddei, non mi ricordo come si chiama, ma è uguale, Dragon Ball GT, o addirittura in Pokémon, quando Sabrina nell'anime rende praticamente giocattoli Ash, Misty, Brock, suo padre stesso. È una cosa che abbiamo visto in tante opere e ora anche in One Piece. Usopp è giusto che rimanga, però, raga, ci ha dimostrato in mille occasioni che stava evolvendosi, che stava diventando un altro personaggio, pauroso sì, ma che tirava fuori il cuore. Sono d'accordo. Che abbia paura dei gatti giganti, quando lui stesso può creare un lupo gigantesco fatto di alghe. Sono d'accordo, Dario. No, ragazzi, dopo che te hai visto... Però a Usopp serve veramente qualcosa di più. Su questo sono d'accordissimo. Ovviamente, delle robe impossibili da Onigashima. No, no, raga. Cioè, gli animali. Te che ti sei allenato in un ambiente ostile, pieno di... Piante carnivore. Di veleno, di robe che ti possono uccidere da un momento all'altro. No, no. Mi sembrano due personaggi diversi. L'Usopp di Prairie Time Skip è quello di adesso. Quindi basta, poi so stanco delle solite dinamiche, il monster trio che deve risolvere tutto. Cioè, se vuoi fare una saga dove si dividono, eh, utilizzali bene. C'ho però... Eh, è proprio questo il problema. Oggi c'è veramente un dislivello troppo netto tra questa ciurma, che è quella originale. I cinque originali, poi vabbè, C'ho per dopo l'hanno trovato, però è un livello troppo, troppo differente. Uso, Nami e C'ho per sono veramente scarsi. Sì, sono scarsi. Vabbè, non c'è ancora di visto. Ma sì, Francesco, aveva... Ok, quindi confermo che non è arrivato al 1128 all'interno di questo video. Senso, ma secondo me non dovevano dire nemmeno così. Dovevano... Secondo me il 1128 gli piacerebbe. Spaventarsi un po' e poi basta. Cioè, Usop era ganso perché, cioè, tirava fuori l'occhio. Oddio, cos'è quel mostro? Ma bene, adesso ci penso io. Poi magari faceva qualche cazzata, però la risolveva con la sua strategia, no? Un po' fortunata. Era bello Usop così. Non uno che scappa e piange in continuazione, ma che evoluzione ha avuto? Sì, sì, anche quella piccola evoluzione che gli aveva andato davvero con i due anni di allenamento li hanno tolta dal punto di vista della caratterizzazione del personaggio. Questo primo capitolo di Elbaf mi ha spinto a D, vabbè, aspetto. Però non è Elbaf, eh. Occhio. Non è Elbaf. Tanto non sappiamo dove siamo, cioè non ne abbiamo idea. E al limite è il Warland. Non è necessario che sia Elbaf. Elbaf è un villaggio del Warland, che è l'isola. C'è anche caso che possano essere su una nave. È venuta fuori anche questa ipotesi quando abbiamo visto dall'altra parte del vetro. Quindi non è detto che sia la saga di Elbaf. Cioè, secondo me non sono Elbaf in questo momento. E' un'altra volta. Poi magari mi ricredo, eh. Mi sta prendendo un giro e vedremo un Usop che tira fuori le pali. Ah, no. Su Usop non lo so. Speriamo. Ha detto una cosa, sono buuta con cui sono d'accordissimo. Qualche tempo fa, forse uno degli ultimi capitoli di Haggad e disse dispiace, forse, oppure non ha detto dispiace. Non ricordo se era detto con accezione positiva o negativa. Però presumo negativa, visto quello che dice. Ci interessa di più One Piece quando non si vedono in Mugiwara rispetto a quando si vedono in Mugiwara. L'ho detto anch'io. Credo davvero in uno, anch'io l'ho detto in uno degli ultimi capitoli di Haggad. Forse l'ultimo. A me One Piece oggi piace molto di più quando non ci sono in Mugiwara. Perché so che ho delle informazioni, so cosa sta succedendo nel mondo, se no è sempre davvero la stessa roba con in Mugiwara. Per me questa è una sconfitta. Eh, lo so. Sono d'accordo. È un peccato. Sì, però questo è l'ultimo. Però è vero. Lo so, mi ha detto che lo era per uno dei capitoli più belli negli ultimi tempi. Ebbè, il suo parere. Ci mancherebbe altro. Io sono totalmente all'opposto. No, quello lì no. Quello prima del 128 no. Anche a me non è piaciuto troppo. Secondo me parla un po' la smania di vedere finalmente Erbaf. L'ho trovato veramente confusionario, velocissimo e poi la uso trattato in quella maniera ancora. Ma ragazzi, questa storia è di poche pagine. Ma in realtà non è di poche pagine. È che ci sono tante splash page. Quando ci sono tante splash page vi sembrano meno pagine. Ma non è che la vignettura, cioè la paginona gigante è una pagina sola, sono due. È che ora fa tante splash page. Con tante... Per quello dico l'album di figurine. Anche lì mi dicevate ma anche Senso, Savordi, l'album di Franco Bolli, figuri... Fa doppia splash page tra pezzi vari, papapapapapa. E diventi pazzo. Non ti piacciono le doppie pagine. Mi piacciono se ha senso, se le usi per zippare le info che mi vuoi dare o la storia che mi vuoi narrare e mi stai sul cazzo. Sei un paraculo. Cioè la splash page nel linguaggio fumettistico deve servire a immergere appunto splash page lo spettatore in una scena. Ah, si chiama splash page per quello, pensa bene. Insomma, importante. Cioè, devi arrivarci piano piano e poi esonda la splash page che arriva magari in un momento epico, in un momento importante e quindi tuffarti nella pagina nella pagina che non ha nemmeno i bordi proprio. Ti aiuta a immergerti, a emozionarti, a colpirti, anche a terrorizzarti. se invece metti la splash page come in Rize come nel flashback di Roger lì è perfetta la splash page, no? O il 5 in Slam Dunk. Se te mi metti la splash page per metterci 20 vignette così almeno ci metti tutto dentro e si va avanti allora è un casino. Ma è così anche nei fumetti americani, eh. Cioè, spesso soprattutto in chiusura di un albo mettono la splash page perché c'è il colpo finale che poi ti rimane dall'alto successivo, no? Quindi non è che ci sono inventati tutti i giapponesi. Mi ricordo ancora la splash page di Spider-Man che va a chiedere aiuto a Dr. Strange perché non sa come affrontare dei nemici, no? Sopranaturali, mi parerà l'ombra che non riusciva a capire come sconfiggere e volteggia su New York e dice come dice la cara e vecchia zia May quando non sai come affrontare quando non sai che cos'hai quando non sai come affrontare qualcosa vai dal dottore e c'è la pagina successiva c'è la splash page con il Dr. Strange che apre la porta a Spider-Man e quindi c'è il colpo di scena che Spider-Man mi spiace non aver mai letto i fumetti di Marvel chiede aiuto al Dr. Strange che dice questo crossover per sconfiggere l'ombra era una bellissima scena la splash page serve solo a quello non serve a velocizzare la storia quando è un male non sai da dove viene era ok grazie Duca non lo ricordavo preciso oppure come nel caso di Miura serve a descriverti una scena apocalittica piena di dettagli e quindi ho bisogno della splash page per sfogarmi e mostrarti tutto l'orrore con una splash page che sia singola o doppia cazzo ne so non era proprio una splash page però quando vedi la Mary bruciare è bella merda che pianto i tre quarti della Mary in fiamma e poi le vignette di riazioni dei personaggi intorno non è proprio una splash page però insomma senso un po' quello ecco quella che ha usato con i cinque astri di saggezza scatenati diciamo così quella è una buona splash page perché c'è la trasformazione che sale che sale che sale pagina poi boom e sonda con la doppia splash page quella ha molto senso una bellissima tavola quella che fa per con tutti i trapezzi se non mi ricordo forse anche quella in cui orso tira un pugno a saturn è una splash page non mi ricordo incastrati con le vignette sì no vanno a cagare anche bang è una bella splash page brava ancora solo e il super saian anche se credo che abbia non era proprio una splash page cioè vabbè era una splash page però non era completamente piena pace ma c'era un bordino bianco sulla sinistra sì sì se ne è parlato già c'è un video fributtato proprio sulla questione di One Piece tra l'altro non mi hanno si vede sono stato abbastanza pacato non mi hanno ucciso che di solito quando si parla di One Piece si rischia un po' sempre di linciare e beh One Piece ormai è diventato una cosa troppo troppo amata il raggio pubblico le sassate però ecco è uscito un video fributtato dove ne parlo ho visto delle reazioni abbastanza pacate sono contento ho visto persone molto incline al dialogo e questo mi ha stupito positivamente vabbè chissà che non abbia visto allora anche la reazione che avevamo fatto noi proprio qua sarebbe bello anche solo sapere se l'ha vista se era d'accordo se l'è piaciuta quella roba lì perché continui a leggerlo se non ti piace bellissimo ah eccolo qua Dario Mocha chiacchiere manga su One Piece saga di Hagged esattamente questo video qui mi ha reagito evoluzione della sciurma di Rufy proprio quello quindi se Dario l'ha vista e ha visto anche questa che ce lo faccia sapere nei commenti del video che sto ricaricando sul secondo canale grazie a tutti